Segretario, lei rispetto alla Grigoretti ha deciso di dire processatemi, farà lo stesso anche sulla Open Arms? No, perché qua c'è una nave spagnola che ha raccolto i migrati in acque maltesi e ha chiesto un porto alla Spagna e a Malta. Adesso che io debba rispondere di una nave spagnola che va in acque maltesi mi sembrerebbe molto bizzarro. Però si potrebbe andare a giudizio anche per il coronavirus secondo qualcuno, però non ritengo che sia una mia responsabilità. Ripeto, qua c'è una nave spagnola che è intervenuta in acque maltesi, ha chiesto un porto a Madrid e alla Valletta e ne devo rispondere io. Adesso non è che se sbarcano i marziani e ne rispondo io con tutto l'amore. Ma mi scusi, oltretutto, ma se la Spagna ha dato a disposizione il porto di Madrid e questo invece di andare a casa sua, è venuto in Italia, ne devo rispondere io. Mi sembra veramente questo surreale. Allora a questo punto se domani uno si sbuccia un dito in stazione Termini andiamo a giudizio con Salvini, mi sembra veramente eccessivo.